Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buonasera, buonasera, ben ritrovati al nostro punto di luce con Don Roberto Ponti. Buonasera. Ben trovata Adriana, un saluto a tutti. Allora, parliamo del Carnevale, perché in momenti diversi, perché il Carnevale ambrosiano è un po' posticipato rispetto al resto d'Italia, però sono i giorni del Carnevale. Sì, è un periodo abbastanza lungo dove ci sono varie iniziative legate a questo momento particolare che è il Carnevale. Io farei una battuta, è vero che qualcuno dirà che è sempre Carnevale perché oramai ci sono feste un po' distribuite lungo tutto l'anno in cui ci sono delle manifestazioni simili al Carnevale, però il Carnevale mantiene il suo valore e la sua tipicità che è legata all'evento che è l'inizio della Quaresima per i fedeli della Chiesa Cristiana, dei cattolici, e quindi c'è un periodo previo che è animato anche da questa esperienza particolare, da questa situazione particolare che è il Carnevale. E quindi noi parlando del Carnevale ovviamente parliamo anche dell'avvicinamento alla Quaresima. Sì, perché il Carnevale è come dire un'esplosione di vita prima che per un periodo poi ci si metta più in un clima meditativo, in un clima in cui si vuole riflettere e prepararsi al grande momento centrale per la fede cristiana che è la Pasqua. E anche nelle opere d'arte come al solito poi ce n'è una in particolare che mi ha colpito dove c'è questo scontro tra il Carnevale e la Quaresima. Ma andiamo per ordine, la prima che ho scelto. è di Joan Miró, che è un pittore, scultore, ceramista spagnolo. Vediamo che belli questi colori. Che tipici, i colori di Miró sono questi, sempre il rosso, il blu e il nero. Il titolo di questo quadro, di questa tavola, è Carnevale di Arlecchino. è del 1925 e è un dipinto che richiama, che ha un legame con il simbolismo del Novecento ma che richiama anche il passato. Un pittore del Medioevo come Bois. Si vedono proprio tanti elementi messi un po' così distribuiti che ognuno porta qualche cosa al significato di questo quadro e allora possiamo capire come si vuole far capire il Carnevale di Arlecchino che è un po' il Carnevale di tutti fatto di tante situazioni particolari che poi vengono composte quella forse più significativa è quella della maschera cioè il fatto di avere a disposizione degli strumenti che permettono di presentarti in una maniera diversa da quella che solitamente si ha. Cioè di lasciare un po' la propria identità per assumerne un'altra solo nel momento del Carnevale. Eh sì, si mette in gioco, forse si mette in rilievo qualche altro aspetto della propria personalità un po' come si fa attraverso le maschere della Commedia dell'Arte che mettono in evidenza delle sfaccettature particolari di questo o quel personaggio. Cosa che adesso appunto è in uso soprattutto nei bambini che si mascherano però in realtà è stato fatto anche tanto dagli adulti. Qui da noi è vero che in alcune città è lasciato soprattutto alla gioia, al divertimento dei bambini però ci sono alcune città come poi vedremo Venezia dove il Carnevale è sentito dagli adulti e poi nazioni che vivono il Carnevale in una maniera molto forte e di vero coinvolgimento di tutti in queste manifestazioni. Allora, il quadro che mi aveva colpito era quello della lotta tra il Carnevale e la Quaresima perché appunto sono due momenti diametralmente opposti della nostra vita. Il divertimento e la meditazione. Entrano un po' in conflitto perché ovviamente uno deve lasciare il posto all'altro allora Peter Bruegel, il vecchio, nel 1559 elabora questa tavola ricca di dettagli anche questa e ovviamente il titolo dice tutto è La lotta tra Carnevale e Quaresima è un quadro che viene conservato in una galleria a Vienna e c'è questo combattimento la metà a sinistra è il Carnevale la metà a destra è la Quaresima e il Carnevale è rappresentato come un uomo grasso a cavallo di un barile quindi c'è il vino c'è un particolare eccolo qua, sì quindi lui è grasso quindi mangia c'è anche lo spiedino da tante pietanze succolenti sì, è il vino della botte davanti vediamo la donna un po' smunta e pallida che ha come lancia una pala con appena due aringhe quindi proprio il digiuno e quindi poi sono trainati anche la Quaresima da un frate, da una religiosa quindi è un po' il clima che cambia e c'è questa lotta perché ovviamente poi pian piano la Quaresima deve avere sopravvento su questo momento di grande festa e allora questo è ben rappresentato da questo quadro anche lui ricco di dettagli sì sì, molto bello appunto la Quaresima trainata da un monaco da una monaca e un frate l'altro trasportato dal cibo e proprio mi ha colpito molto il terzo quadro il terzo quadro di Giannino Marchig è un giovane attore nei panni di Arlecchino è del 1933 ha il suo costume multicolore ma non indossa la maschera allora il quadro è come un momento di sosta che questo attore ha e che rivela il suo vero volto l'enfasi è proprio sul volto e sulla persona reale dell'attore che in questo momento non è posseduta dal suo ruolo quindi è se stesso non è il suo personaggio è un po' il togliersi la maschera che avviene diciamo il carnevale ti permette di esprimerti in un modo un po' diverso mascherato e forse mettendo in evidenza qualche aspetto della propria personalità che a volte è sopito e poi bisogna ritornare a mettere avanti il proprio ruolo il proprio volto e questo quadro è molto bello perché il volto è molto espressivo fa tornare al proprio volto infatti è quello che dicevamo prima che il carnevale da una parte ti permette di assumere un'altra identità dall'altra anche di rovesciare le norme sociali per il momento del carnevale per il momento del carnevale diciamo un po' nei giochi delle parti chi ha autorità magari diventa il servo e viceversa un po' si rappresenta questo un po' per rimettere in ordine le cose capire che se tu hai anche un ruolo di grande responsabilità devi metterti nei panni di chi invece deve aiutare gli altri a fare le cose più semplici e viceversa chi di solito è un esecutore si ritrova ad avere una grande responsabilità e forse sperimenta anche che cosa vuol dire questo e allora nel gioco delle parti ciascuno impara qualche cosa di nuovo certo giocando ma poi sperimentando anche che cosa accade nella vita e come ciascuno deve vivere bene ciò che gli spetta esatto anche quando ha ruoli identità diverse e poi l'altro aspetto che si possono anche attuare degli atteggiamenti che potrebbero essere giudicati inappropriati in altri momenti ma a carnevale vanno bene a carnevale come si dice ogni scherzo vale e questo è proprio un po' per mettersi in gioco in un modo diverso vale ogni scherzo ovviamente se rimane uno scherzo perché ci aiuta a capire qualche cosa di nuovo e sì qualcosa di nuovo e anche le ragioni degli altri e poi magari anche a sorridere quindi a volte è molto importante saper ironizzare e sorridere di tutti gli aspetti della vita nel momento opportuno esatto e carnevale è uno di questi momenti poi come al solito abbiamo scelto hai scelto dei video delle testimonianze che ci aiutino a capire il vero significato del cardinale il primo è una spiegazione di un insegnante di religione che è Emanuele Magli che è un insegnante molto seguito sui social lui è molto bravo a comunicare e quindi ci aiuta a capire il vero senso e anche le origini del carnevale vediamolo tra qualche giorno in tutto il mondo si festeggerà una grande festa una festa un po' matta dove la gente si traveste si lancia a pezzetti di carta balla canta mangia avete capito di cosa sto parlando? del carnevale beh allora scopriamo un po' meglio di cosa si tratta partiamo come sempre cercando di capire l'origine della parola infatti carnevale deriva dal latino e significa carne levare quindi togliere la carne questo era il nome utilizzato per indicare l'ultimo giorno di festa il martedì grasso dopo il quale iniziava la quaresima ovvero i 40 giorni prima di Pasqua durante questo periodo la quaresima non si poteva mangiare carne era un modo per prepararsi al meglio al grande evento pasquale allora il giorno prima il martedì grasso ci si ingozzava ci si sfondava di carne e da qui il nome carnevale è quindi una festa legata alla tradizione cristiana anche se in realtà troviamo alcuni elementi presenti già molti secoli prima del cristianesimo infatti già nelle feste dell'antica Roma o della Grecia pagana ci si lasciava andare per alcuni giorni a scherzi giochi e feste in maschera per celebrare gli dei Dioniso e Bacco per poi tornare alla normalità di tutti i giorni queste tradizioni sono poi state inglobate dalla cultura cristiana che ha iniziato a festeggiare il carnevale vero e proprio come momento di svago e libertà prima dell'inizio della quaresima adesso il bello del carnevale non è il poter mangiare la carne che si può fare anche durante la quaresima piuttosto ci si ingozza di schifezze caramelle dolci di ogni genere ma non solo infatti durante i festeggiamenti ci si travesse si mettono delle maschere e pensate questa usanza sembra essere nata per poter dare a tutti in questi giorni la possibilità di essere uguali agli altri tutti sullo stesso piano non contava più essere principi o mendicanti per un giorno con la maschera addosso si era tutti uguali e pensate che anche l'usanza di mascherarsi sembra essere molto antica alcuni studiosi ritengono derivi da una festa in onore alla dea egizia Iside come anche la tradizione dei carri addobbati che percorrono le vie della città che sembra essere già presente durante l'impero di Babilonia in cui grossi carri simboleggianti il sole e la luna filavano per le strade ricordando la creazione della terra adesso è una festa celebrata in tutto il mondo e ogni città la festeggia a suo modo in Italia è molto famoso il carnevale di Viareggio quello di Venezia in Brasile è famosissimo il carnevale invece di Rio de Janeiro e chi più ne ha più ne metta voi lo festeggiate? cosa fate di particolarmente matto? è vero da noi lo festeggiano soprattutto i bambini è questo dobbiamo dirlo però diciamo tante feste ci sono le feste per adulti ci si organizza un po' per usare lo stile di carnevale in una serata particolare e mascherarsi va bene adesso vediamo un altro video fatto da un prete Paolino si era qui presente a Milano un confratello brasiliano e chi più dei brasiliani conoscono il carnevale ovviamente abbiamo sentito il carnevale di Rio ma anche il carnevale di Sao Paolo di tutta la realtà brasiliana che vive molto sente molto questa festa particolare vediamo per me il carnevale soprattutto in Brasile è una grandiosa festa che riunisce giovani vecchi bambini tutta la gente è un momento di incontro soprattutto dopo la pandemia che la gente sta ferita per questo l'esperienza del carnavale è un'esperienza di colore di festa di danza di incontro con la gente e per me è veramente un momento importante di espressione culturali espressione della propria anima io avevo un prozio che aveva raccontato alla moglie che era in giro per lavoro e la moglie l'aveva visto in tv nel carnevale di Rio era in Brasile si diciamo che ci sono delle esagerazioni ma come diceva padre è un'espressione necessaria a un certo punto dell'anno perché ognuno si manifesta per quello che è non l'ha detto nel video che abbiamo preparato ma evidentemente il corpo gioca molto in questa espressività soprattutto in Brasile dove a carnevale c'è una temperatura almeno in buona parte del Brasile che permette di essere come dire come in spiaggia e allora si balla in mezzo alla strada si canta e questo è proprio una bella espressione del popolare per tutti dove tutti si ritrovano e come diceva anche l'esperto il professore di religione Emanuele Magli si è tutti sullo stesso piano ci si diverte insieme e mascherati quasi non ci si riconosce più si è tutti uguali per divertirsi del proprio se si è un'espressione di gioia quindi in questo cogliamo questo aspetto positivo e interessante del carnevale ecco non è un mascherarsi tanto per ma è un mascherarsi per vivere un momento di condivisione in questo ha il senso ha un senso autentico il carnevale e si quindi è un elemento di socialità di socialità e di condivisione certo non è che uno si maschera per stare da solo in casa sua per stare insieme si maschera per stare insieme a tutti gli altri c'è un altro contributo il contributo l'ultimo è per come dire rifarsi un po' gli occhi siamo nel periodo di carnevale nelle città dove il carnevale è un momento importante hanno già iniziato sono già iniziate le sfilate le varie celebrazioni allora vediamo diamo uno sguardo a quello che è già successo a Venezia in questi giorni vediamo un po' l'ultimo è un po' l'ultimo è un po' l'ultimo l'ultimo è un po' l'ultimo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.